Cioè in pratica a Viale Toscana dalle teste di cazzo hanno appeso quella roba là che è tipo un rotolo di filo d'acciaio da questo palo alla banchina in pratica la ringhiera e sperando che lo prendesse un motorino che stava arrivando, il motorino poi è girato, l'ha preso una macchina, cioè tipo quella è un pezzo, cioè è roba lasciata dalla macchina, l'avrà preso 80 all'ora, la gente è matta comunque.